Buongiorno a tutti, allora prima di vedere la partita di Champions, comunque questo video ve lo proporrò alle 21.45 al termine del primo tempo della partita appunto di Champions, andiamo a vedere come è andato il fantacalcio Laghe e diciamo che sorrido, sorrido e non faccio nessun altro commento, ma andiamo a vedere come sono andate le gare partendo dalla prima sfida Forza Juve contro FC Inda, quindi Juventus-Inter, vediamo come le due squadre sono scese in campo, Forza Juve scese in campo con Miami in porta, Bremer, Voigoda, Poche e Darmiani in difesa, ma Bremer non ha giocato e è stato sostituito più che dignitosamente, anche direi benino, da Tomori Centrocampo con Strefezza, Miranciuk, Pellegrini, Lorenzo e Pessina, in attacco Vlaovic e Bogà A risposta FC Inda con Shesley in porta, Carlo Augusto, Bigul e Bastoni, Bigiol ma io lo chiamo simpaticamente Bigul, perché mi piace chiamarlo Bigul, uccellino padulo, un uccellino milanese chiamato Bigul e cioè lui è Bigiol, però così simpaticamente lo chiamo Bigul, Centrocampo Luis Alberto, Mkhitaryan, Yulman e Filippe Anderson, in attacco Sanabria, Martinez e Raffaele Au che però si è stirato dopo dieci minuti ed è stato sostituito dignitosamente dal buono Kereke. Andiamo a vedere com'è andata, Forza Juve portiere 6, non ha preso gol, non ha preso Giovanna, 6 resta. Difesa, 17, no 24, difesa 24, difesa 24, però c'è un giallino di troppo al buon Posh che di solito fa l'assist, fa un gol tirando la mina e invece stavolta ha preso il giallino di troppo come un curucu e quindi da 24 si scende a 23,5. Centrocampo 24 e mezzo ma anche qui c'è un giallino di troppo, quello a Pellegrini Lorenzo e quindi da 24,5 si scende a 24. Attacco 13, però c'è il giallino di troppo. No, scusi, giusto. Dove sto guardando? Forza Juve, esatto. Dicevamo attacco 13, però c'è il giallo e il gol a Blaovic, quindi si sale a 15,5 per un totale di 69, un numero che fa libidile e non vi sto a spiegare perché, lo capite da voi. Comunque 69, in un altro ambito un bel numero, al fantacalcio diciamo che è proprio il minimo sindacale, per fare un gol comunque basta e avanza. Andiamo a vedere che cosa ha combinato invece FC Inda. Come dicevamo 4-4-2 per Forza Juve, 3-4-3 per FC Inda. Portiera anche lui 6, non ha preso gol, non ha preso gialli, non ha preso una beata Valeria, quindi 6 e il resto. Difesa, 19. Balbon Carlos Augusto, che di solito o fa un assist o puccia il biscottino, stavolta ha preso il giallino di troppo, quindi da 19 si scende da 18,5. Centrocampo 23,5. Anche qui c'è il giallino di troppo, stavolta Yulban, dal tondo è un uomo di sostanza, un uomo di panza, un uomo che volete quello che vuoi, segna poco, ha un buon rendimento, perché comunque Yulban ha un buon rendimento, ma segna poco, ogni tanto prende il giallo e quindi da, scusate il raffreddore, 23,5 si scende a 23. Attacco 19,5. Però abbiamo l'assist di Lautaro Martinez, il gol del buon Sanabria, e quindi 4 punti, meno mezzo punto, 3 punti e mezzo in più, da 19,5 si sale a 23. E quel giallo lì di troppo a Lautaro Martinez, che non l'ha presa neanche benissimo quando gli ha dato il giallo l'arbitro, cioè ha detto ma cosa ho fatto, ho fatto niente, costa la vittoria, ahimè, al buon FC Inda, perché poverino si ferma a 70,5. E diciamo che questo pareggio per 1 a 1 per FC Inda potrebbe essere deleterio ai fini di questa lotta molto interessante per i primi posti, però lui è tranquillo, è abbastanza tranquillo al terzo posto, non paga nulla. Dei senza infamie, senza lode, libidide. Già non pagare nulla e già farsi la cenetta gratis fa libidide. Quindi, poi, oh, tutto può ancora succedere, qualche quattro partite. Però questo pareggio brucia un po' sicuramente, credo che abbia delle rimostranze da fare, giustamente anche lui, ma in quel disis pantacalcio. Andiamo a vedere l'altra sfida, un bel derby, un'avvisaglia di derby che ci giocherà domani, ma qua l'abbiamo anticipato, anzi ne abbiamo avuti pure due. La suppostima ha sfidato la Joan Norris, quindi Inter contro Milan. Vediamo com'è andata. La suppostima è scese in campo con Provedelli in porta. Parisi, Mazzocchi e Di Lorenzo in difesa. Rabiot, Perera, Ciula-Ciula, Cialanoglu e Ferguson a centrocampo. Verde, giocatore, se non erro, dello Spezia, però aspettate che controllo, esatto, Danielone verde, Luca Cone e Giroud. Ha risposto la Joao Norris. Beret, Beret in porta, ma non ha giocato al suo posto, ha giocato consigli e direi senza infamia, senza lode, perché comunque ha preso... Vabbè, poi ve lo dico. Difesa, Maele, Kim e Baschirotto. Centrocampo, Ossolini, Samarzic, Kubainers e Milinkovic-Savic. In attacco Nia, Ozymen e Simeone, che però si è entrato, però senza voto, è entrato troppo tardi e che è stato sostituito dal buon Lorente. Andiamo a vedere com'è andata. Supostim, portiere sei, però ha preso due pere, quattro, eh, quattro. Difesa, diciannove. De un cross, de un giallo, de un gol, da Beata Francesca e diciannove resta. Centrocampo, è il centrocampo, invece, si è mosso. 25, però abbiamo il gol di Pereira e il giallo al Bon Rabiot, quindi da 25 si sale a 27,5. Attacco, gol di Lucacone, assist di Giroud. Attacco, diciannove virgola cinque, però, più quattro, non ci sono gialli, quindi un bel più quattro, bello, bello, fresco, bello carico, per un totale di 23,5. Quindi il totalone finale è 74. La Supostim ha fatto due reti. Ha risposto la Joe Norris, portiere sei, però ha preso un gol, cinque. Difesa, diciotto, ma Maele, 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 Maele ha preso il giallo e quindi siccome Maele ha preso il giallo si scende a 17,5. Centrocampo, 22,5. Non c'è un giallo, non c'è un assist, non c'è un gol, non c'è una beata Enrica. E 22,5 resta. Attacco, 18, 18, 18, 18, 18, 18. Ma siccome che Ozymane un rigore l'ha segnato, l'altro l'ha sbagliato, più 3, meno 3, è 0, quindi 18 resta. È incredibile, davvero, la capolista non riesce a fare nebbeno una rete. Bastava che il buono Ozymane facesse i suoi due gol e la capolista avrebbe perso lo stesso, perché probabilmente non sarebbe bastato, però forse sì, perché magari se segnava i due calci di rigore, anziché 6,5 avrebbe preso un 8, 8 e 6, 14, quindi 14 al 6,5, 3,5, 7 punti e mezzo in più, sarebbe andato a 70,5 avrebbe perso lo stesso. Quindi non può neanche sacramentare per l'errore di Ozymane, perché anche se avesse segnato magari avrebbe fatto sì 14 punti, ma alla fine della fiera avrebbe fatto 70,5 e gli sarebbero girate ancora di più i testi, perché per mezzo punto perdeva 2 a 1. Invece così non può neanche incazzarsi più di tanto. Quindi la Suppostim batte la Joe Norris 2 a 0 e ferma l'andatura della capolista. Andiamo a vedere come è andata invece l'altra sfida Inter Milan tra l'Interlive e l'Amelinos Team. Interlive è scesa in campo con Gattone Silvestre in porta, Udoge Miraghi e Di Marco in difesa, però Udoge è entrato, forse ha preso senza voto, un attimino che controllo, ma mi sembra che è il bonus. Udoge senza voto, Miraghi manco è entrato, quindi l'ha risparmiato per le future partite. Quindi Udoge è stato sostituito da Bekao, diciamo senza infamie e senza lode, e Miraghi è stato sostituito da Dodò senza infamie e senza lode. Quindi Bekao, Dodò, Di Marco, i tre difensori. Centrocampo Karascheglia, Frattesi, Barella e Bayrami. In attacco Enzola, Berardi e Jovic. Andiamo a vedere com'è andata. Ah no, giusto, devo dire, l'Amelinos Team, scusate, mi stavo dimenticando, l'Amelinos Team invece è scese in campo con Onana in porta, Faraoni, Romagnoli e Teo Hernandez in difesa. Pasalic, Zaccani, Baldanzi e Kostic a centrocampo, ma Kostic non è giocato, è stato sostituito da Elbas, che diciamo non è stato proprio all'altezza, ecco. Non siamo cattivi però. Attacco Immobile, Churia e Oilun. Purtroppo per lui Immobile ha giocato, Beto e Colombo. Chiedo media. In attacco ha giocato Immobile, Beto e Colombo. Però Beto non ha giocato, Colombo senza voto. In sostituzione, perché Ciuria a centrocampo, non so perché ho messo Ciuria, perché, no, non so neanche perché ho messo, non c'entra niente, Ciuria. Chiedo media. Ripetiamo l'Amelino Stimo, Onana in porta, Faraoni, Romagnoli, Hernandez in difesa, Pasalic, Zaccani, Baldanzi e Kostic a centrocampo, Kostic sostituito da Elbas. In attacco Immobile, Beto e Colombo. Però Immobile ha giocato, Beto non ha giocato, proprio non è neanche entrato, Colombo è entrato, ma ahimè, senza voto. Quindi al posto di Beto è entrato Caputo, Libidine, Gole, quindi è andato molto bene, ha sostituito molto bene il buon Beto. Al posto di Colombo sarebbe dovuto entrare Oilun, ma Oilun non ha giocato, quindi il povero Benino Stim ha dovuto giocare in dieci. E capite che giocare in dieci è sempre una cosa poco simpatica. Andiamo a vedere però com'è andata. Interline, portiere sei e mezzo, anche qui nessun gol subito, nessun giallo subito, da Beata Giovanna, sei e mezzo resta. Difesa diciannove e mezzo, però c'è il golletto di Di Marco e contemporaneamente anche il giallo a Rodrigone Becao, che ha fatto anche un'ottima prestazione sei e mezzo, però col giallo scende a sei e quindi il mio diciannove virgola cinque sale a ventidue, non a ventidue virgola cinque. Centrocampo ventiquattro e mezzo, non c'è un assist, non c'è un giallo, non c'è un gol, non c'è una beata. Ludovica, tanto per cambiare il nome, e quindi ventiquattro virgola cinque rimane. Attacco diciotto virgola cinque, però c'è il gollettino di Berardi che io ringrazio sempre molto gentilmente. Il simpaticone della Giovanna Norris che mi fa Gigi, prendi Berardi, ormai ti resta solo Berardi, ho preso Berardi e devo dire che mi sta dando le sue belle soddisfazioni, toccatina di balle che non si sa mai. E quindi da 18,5 si sale a 21,5 per un totale di 74,5 che per ora è anche il record di giornata. Ma vediamo cosa ha combinato, l'Amelino Stim in 10. Portiere sei e mezzo, sei e mezzo rimane perché anche lui non prende gialli, non prende gol, non prende una beata. Annalisa va, cambiamo Annalisa che è bello. Difesa 18, 18, 18, 18, però abbiamo gol di Teo Hernandez che vabbè quello l'ho visto, l'ho visto in diretta, gol, gli ha dato un bave, gli ha fatto un tappetino rosso, prego si accomodi, vada pure in porta. Però anche lui si è preso la palla e si è fatto 60 metri, palla al piede, poi l'ha messa là sui monti con Arnetta anche grazie alla defiazione del difensore che è andato lì. C'ho paura della palla, paura della palla e l'hai toccata e l'hai messa all'incrocio dei pali così impari ad andare da pauroso. E quindi da 18 si sale a 20, centrocampo 23. Purtroppo Romagnoli oltre ad aver fatto una partita pessima ha preso pure il giallo, quindi da 23 si sale a 22,5. Attacco ha giocato praticamente in due e quindi 12 più il gol del buon Caputo! Caputo! Hai fatto il golasso! Si sale a 15 per un totale di 64 che appunto ahimè non riesci neanche ad arrivare a 66 per segnare il gol della bandiera. Quindi Interline Melino-Steam 2 a 0 e anche equivale al discorso che facevo prima del John Norris che con il doppio rigore sbagliato dal buon Osibel che per un gol ha fatto un rigore, un rigore l'ha segnato 1 no, anche se l'avesse segnato sarebbe arrivato a 70,5 esagerando quindi non cambiava molto. Anche qui se uno tra Colombo, Beto eccetera avesse giocato, erano sei punti in più, arrivava a 70, quindi non cambiava più di tanto. Poi magari segnava, allora cambiavano le cose e finiva in pareggio. Purtroppo anche a me è successo di giocare due volte in dieci, una l'ho vinta, una l'ho pareggiata. Dobless oblige come direbbe qualcuno. Vedremo il prossimo turno, ma prima di andare al prossimo turno andiamo a vedere la classifica che si fa nuovamente interessante perché la John Norris mantiene sempre la pole position, quindi è sempre prima ma con 53 punti. Interlive è a 51, FC Inda è sceso a 46 punti, la Suppostim è a 38 punti, l'Amelino Stim è a 32 punti e Forza Giù è salito a 27 punti e quindi ancora delle chance per non pagare la pizza. 5 punti di differenza a 4 giornate dalla fine si possono ancora recuperare. Così come io ormai mi ero dato per spacciato a meno sei dalla John Norris, anzi cominciavo a preoccuparmi perché FC Inda si era avvicinato a me e invece le ultime due giornate ho rosicchiato ben 4 punti alla John Norris e adesso mi ritrovo ancora a 2 punti dalla John Norris e tutto può ancora succedere. Mentre invece mi sono allontanato da FC Inda e adesso devo anche comunque difendere il mio secondo posto perché 5 punti sono tanti ma possono essere anche pochi. La prossima giornata mi vedrà affrontare Forza Giù che attenzione sta tornando in non diciamo altro. Poi l'Amelino Stim che appare molto scazzatella affronterà la John Norris in una sfida tutta Milan-Milan e poi c'è la sfida Inter-Inter tra la Suppostim in vacanza perché è la Suppostim sarà probabilmente quasi in vacanza non ancora in vacanza che sfiderà FC Inda quindi una giornata bella interessante eccetera ma che potrebbe anche lasciare la classifica così com'è vedendo le sfide tra una squadra abbastanza depotivata come l'Amelino Stim che potrebbe anche dare il colpettino di coda è che non ti aspetti e un Forza Giù che si è ultima in classifica ma potrebbe dire ancora la sua. Mentre invece è interessante la sfida tra una Suppostim sempre a un Fire e un FC Inda che è un po' un sali scendi e ogni tanto fa dei record che ti spaventi dici minchia super squadrone eccolo qua e poi ogni tanto come l'altro giorno non riesce neanche ad arrivare di sfiga a 71 mentre nelle ultime due giornate ha ampiamente superato gli 80 punti vincendo alla grande tutte le gare quindi boh vedremo vedremo perché tutto può succedere ancora come vedete il fantacalcio è folle come il calcio quindi tutto può accadere vedremo cosa accadrà la prossima giornata io intanto vi saluto vi ringrazio e naturalmente ci vediamo alla prossima ciao vado a vedere la Champions